Saluto, c'è un sacco di amici, vedo che sono collegati, sono quasi emozionato, quasi 200 persone, alla faccia dico io, insomma, a volte in questi eventi in cui partecipo come discente, sono tutti contenti quando sono 60-70, la cosa mi lascia abbastanza. Comunque, andiamo di corso perché appunto Giorgio ha ricordato una cosa importante, c'è alla fine della scuola, tra l'altro questo bellissimo evento supplementare che sia Giorgio che Antonio Covielo hanno messo su, che è un po' il finale della scuola, dove si parla anche di nutraceutica come stasera è fitoterapia, in senso ancora più approfondito a livello scientifico. Stasera io soprattutto sono finalizzato a darvi le basi su cui fare i protocolli, come ho fatto l'altra volta per il discorso delle formulazioni colloidali. E stasera invece affronto il problema appunto della fitoterapia in particolare e della linea, eccoci, dovrebbe essere... Sì, perfetto, ti vediamo. Sì, in presentazione anche, vi vedete? Sì, metti in presentazione. Aspettate perché non capisco come mai mi sta dando questo problema, non l'ha mai dato. Ecco, ora va bene? Sì, perfetto. Vai, allora, formulazioni innovative di modulatori epigenetici e fitoterapici. In pratica la linea epimutrics. Allora, intanto è importante, fitoterapia è medica. La tua linea è sempre un po' disturbata, però dai, ti sentiamo. Ok. Probabilmente se disattivo il video è meglio. L'audio è meglio. Scusami, il video. Disattiva il video, disattiva la telecamera. Esatto, esatto. Allora, dicevo, la fitoterapia è un disciplino a medica che consente l'uso di piante medicinali e derivate a scopo preventivo e curativo, in deduzione ai costituenti chimici. Non segue attenzione, filosofia o metodologie diagnostiche diverse da quelle da medicina scientifica. Quindi è medicina o farmacologia naturale su basi scientifiche. Tanto è vero che, vado avanti, quindi non si tratta, come si dice, di medicina alternativa. Cioè, perché a differenza della prevenzione popolare, utilizza le piante secondo le evidenze scientifiche. Cioè, questo è molto importante. Per esempio, l'erbolisteria ha pure fondamenti, perché in pratica è fitoterapia anche quella. Solo che sono un mix spesso di estratti erbali, che magari nei loro mix non hanno supporto di lavori scientifici. Invece la fitoterapia analizza magari una pianta, la droga, la parte attiva di una pianta, e si basa su lavori scientifici, che poi sono sperimentali e poi anche clinici. Quindi, attenzione, si basa sulle stesse regole la medicina di fatto ufficiale. Quindi, quella sull'Evidence-Based Medicine. Tant'è vero che l'efficacia, vedete, sempre valutata a livello di un'efficacia certa, a livello A, un'efficacia molto probabile o probabile o incerta a livello B o C, può ancora valutare, non diciamo non rilevata, per esempio, quindi, si chiama efficacia di livello D. Il fitocomplesso. Questa è la cosa bella. Perché, per esempio, fanno una domanda e mi dicano, ma che differenza c'ha di prendere la vitamina C, la rosa canina, oppure prenderla tramite un integrale, cioè un supplemento tipo, non so, il cerbion? La differenza è questa, che la natura ha messo insieme la vitamina C, che non è un caso, insieme ai bioflavonoidi, per avere un maggiore assorbimento. È anche un'azione coadjuvante e sinergica. Quindi ecco perché è importante il fitocomplesso. Cioè la pianta ha dei principi attivi, anche più di un principio attivo. In delle zone della pianta chiamate droghe. La droga è la parte attiva della pianta. Attenzione, la pianta può avere più droghe. Può avere le foglie, i frutti, le radici, ognuna delle quali ha un'azione anche, spesso anche diversificata. L'importante è capire che comunque la droga, la parte attiva della pianta, ha un fitocomplesso di componenti. Ognunque c'è una parte biologicamente attiva e poi sono anche i coadjuvanti, l'azione. Ecco perché è molto importante il fitocomplesso, vedete? Attività principale, complementare, molattie però che magari facilitano l'assorbimento. Questo è il grande gap a volte che manca a certi tipi di supplementi, per esempio dove si estrae solamente il principio attivo, ma null'estratto della pianta da cui deriva. Quindi vedete che i vantaggi del fitoterapico, azioni molteplici, sinergico, ridotta tossicità spesso rispetto alla farmacologia tradizionale, ma questo non è sempre detto, attenzione, sono piante anche medicinali, una certa tossicità, a un certo livello. E spesso, proprio per il discorso che vi ho detto sul fitocomplesso, sui coadjuvanti di assorbimento, questo apporta la maggiore biodisponibilità. Il chaga. Ecco, questo è l'attenzione, fa parte, è la medicina naturale integrata, certo, ma se vogliamo essere esatti si tratta di micoterapia, cioè terapia fatta con i funghi medicinali. Una bellissima branca, veramente, della scienza biomedica naturale, che in particolare ho voluto cominciare con questo, perché è un po' particolare questo come fungo. Ultimamente è venuto molto alla ribalta, tant'è vero che anche le aziende micoterapiche principali, a livello internazionale, in Italia, secondo me ci sono due, importante, basta che non faccio il nome, ricordatevi sempre, se dovete fare una micoterapia, affidatevi a ditte che le fanno una certa qualità, perché sennò è un problema che i funghi sono un problema. Allora, il chaga è chiamato diamante della foresta, guardate, perché è considerato il più forte antiossidante noto a livello naturale, come micoterapico. Contiene molti nutrienti, polisarcadi, i famosi beta-glucani, che hanno un'azione tra l'altro anche stimolante il sistema immunitario molto importante, i minerali. Ma che cosa è che differenzia molto questo tipo di fungo? L'elevata concentrazione di superossido di smutasi, del famoso scudo, la SOD. Ora, l'altra volta, o anche della scuola di formazione, abbiamo parlato proprio della SOD, ma gli stessi lavori che diceva Giorgio, e la Ferrero stessa ha fatto, per esempio, quando analizzati il potere antiossidante, e lo stesso anche il professor Canistrari, cosa valutavano? La superosteo di smutasi, enzima al centro della matrice mitocondriale, o intramembrana, attenzione, che proprio è lo spazzino, il nostro scudo difensore, quando si presentano i radicali superossido, e poi si trasformano in acqua ossigenata, e poi addirittura in, cioè per essere poi smaltiti appunto in acqua. Ma questo lo fa la glutatone perossidasi, ma con partecipazione la superosteo di smutasi. Quindi ecco perché è importante questo ciaga. È veramente un grande fornitore. Ora mi direte voi, lo prendo solo questo, o prendo per fare uno scudo antiossidante, che è altra roba? Però ne parliamo un attimino dopo, quando parlo di coenzima Q10. Perché si ricorda sempre che, diciamo, lo spettro antiossidante importante è farlo in maniera coadiuvata. Però ricordate, questo è un gran fungo, che oltre a azioni che sono state dimostrate, che stanno venendo fuori sempre di più, è comunque quello che è più arricchito appunto di superosteo di smutasi. Infatti vedete quali sono le aree di applicazioni. Sistema immunitario per forza, sindrome di raffreddamento, asma, potente antiossidante, beh, per questo per forza. È in grado di mantenere la cute e il sistema per i ferossani. È corroborante, cioè quella si dice una volta, terapie mediche 50-60, questo termine è bellissimo, corroborare, cioè un rafforzamento generale dell'organismo, supporto in patologie anche gastrointestinali. Ma allora arriviamo a questa tecnologia Medis. Perché? Perché il Chaga, un Chaga oggi disponibile, è fatto con questa bellissima, diceva Giorgio, tecnologia Medis, che a me mi ha molto affascinato, perché io da quando c'era questa linea che ho fatto l'altra volta dei prodotti colloidali, ho detto, beh, Giorgio, da tanto tempo, lo sa che Giorgio sono appassionato di fito-germoterapia, cerchiamo di far entrare anche in modo importante, oltre a questi prodotti colloidali, anche una linea importante che sia basata sui fito preparati. Bene, c'è questa Medis, che cos'è? Tecnologia Medis, che utilizza un metodo, praticamente, messo a punto, vedremo da due scienziati, i norvegesi, che in pratica, integratori alimentari, supplementi a me, integratori in case, sì, a un certo punto, una parola che sapete, non è che gradisco un gran che, si integra a ciò che manca veramente, ma insomma, io previso sempre parlare di nutraceutici, o di fitoterapici, a base di funghi e batteri con una crescita in co-cultura, in particolare, questi scienziati che l'hanno messo a punto, hanno utilizzato come batterio il gluconobacter europeus o bacillus, sono un fungo attuale che lo zico sa che non mi escesse. E cosa è successo? Questa unione in co-cultura ha favorito proprio il fatto anche che i prodotti che vengono aggiunti, questi strati, chiamano Medis Extrat, questo nome particolare d'acqua norvegese, favorisce, non solo è importantissimo anche creare un ambiente intestinale importante come supporto immunitario, qui c'è tra l'altro il nostro amore amico Guido Matini che è un esperto nel settore e sa benissimo quant'è, ma tutti lo sappiamo, l'impatto importante del sistema gastrointestinale dal sistema immunitario, ma soprattutto ne favorisce una migliore assimilazione, quindi c'è un rafforzo del sistema immunitario e anche una migliore assimilazione, quindi biodisponibilità, di quando questa co-cultura è messa insieme ai principi attivi fitoterapici o nutraceutici. Ebbene, guardate, io ho messo anche questi due slide che tra l'altro mi ha fornito proprio Giorgio che mi ha dato per sapere un pochino com'era la storia che io ho già anche per sapere le concentrazioni esatte di ogni fitoteraparato e qui vedete io ve l'ho messa in modo che quando vi passo le dispense perché vi passerò ovviamente queste dispense di partecipare di fatto l'altra volta. Secondo me la linea è veramente disturbata, si sente proprio male, devi avvicinarti il più possibile al computer. Va bene, mi avvicino, va bene così? Un po' meglio? Molto meglio, molto meglio. bene, quindi ecco questo, diciamo, questa, ho messo anche queste slide per far vedere lo sviluppo di questa tecnologia è stata messa a punto, è molto interessante la leggiate questa qui, questi due dottori che sono i ricercatori sono Pascher e Vistendal hanno messo a punto questa cultura per favorire questo qui e hanno visto una serie di ricerche che hanno fatto, quindi lo sono passati dai dati sperimentali alla clinica. Leggetele perché è molto importante questo aspetto, vedete quanti situazioni hanno controllato, cioè hanno utilizzato addirittura questa tecnologia insieme ai farmaci tradizionali per vedere se c'era un potenziamento da azione. Quindi ecco perché interessante. Allora giustamente hanno detto ma se questo funziona con i farmaci tradizionali perché non usarlo? Ovviamente con i nutraceptici o i fisioterapici e da qui nasce la linea proprio Medis che è venuta fuori. Bene, eccolo va. Il Chaga Epi Nutrix estratto di Chaga quindi Kelly Notus Obliquus 400 mg standardizzati in unina attenzione in unina molto importante perché lo sapete benissimo che è un prebiotico fondamentale quindi ha supporto importante supporto al sistema intestinale e poi c'è questo Medis Pilsen Extract EpiB 4 mg appunto che è un po' diciamo il fiore all'occhiello che favorisce questa co-cultura che favorisce l'assorbimento e contemporaneamente quello che può essere l'ambiente ideale a livello immunitario intestinale. Quanto il dosaggio raccomandato? 1-2 capsule. Questo è sempre a giudizio ovviamente del sanitario quindi del medico del biologo del farmacista o il naturopata che lo consiglia e lo prescrive chiaro che è evidente va avvito sempre l'ambito di un paziente e quindi va sempre personalizzato la sommettrazione. Ci sarebbe per dire che vitamina a me parla di vitamina da un po' chido perché io parlerei di ormone sostanza carattere ormonale perché di fatto è questa la vitamina D cioè vitamina finché deve essere vitamina quindi per fare lo scheletro eccetera eccetera ma di fatto adesso si fa da vedere proprio sostanza attività ma non ci posso fare nulla Giorgio so che dirti e piuttosto piove anche qui in zona proviamo via comunque vedete che quanto è coinvolta la vitamina D nella malattia ovviamente in tante patologie ovviamente croniche guardate c'è da vedere vedete il suo metabolito attivo 1,25 di idrossi vitamina D importante ruolo ma guardate ma guardate quante praticamente quasi tutte ma quello è importante che ci sono dei recettori periferici la vitamina D è molto importante questo fatto che sono presenti in quante tutte le cellule o diciamo serdo di fatto simile ormone anzi di fatto è un ormone parliamoci chiaro ha un'azione similormonale a livello periferico chiaro che ci sono anche le pazienti le persone che per esempio hanno un deficit recettoriale della vitamina D dando da considerare e questa ne compromette molto l'azione le malattie radiovascolari per dirvene una guardate senza entrare nel dettaglio perché è stata fatta una lezione anche sulla disfunzione endoteliale molto approfondita della scuola per esempio ma chiaramente guardate diciamo lo sconquasso dell'endotelio vascolare è alla base della terosclerosi che sappiamo tutti quindi poi dell'infarto miocardico o dell'ictus ebbene hanno visto che un basso livello di vitamina D diciamo comporta un rischio almeno due volte superiore di incidenti accidenti radiovascolari adeguata la vitamina D nei macro facili che sono le cellule poi immunizzazioni che sono anche infiammatorie quando attivate in maniera ovviamente non giusta come può succedere nel caso che possano incorporare le LDL ossidate attenzione colesterolo le LDL ossidato solo quello si riduce la formazione di cellule schiumose vedete diminuisce tutto quello che sono ovviamente lo step che porta poi a un'azione di formazione da placca teromasica questo è importante capire quindi la vitamina D che cosa fa quindi un'azione perché diminuisce questa blocca diciamo il passaggio della formazione dell'LDL ossidate quindi è un'azione preventiva antiaterogena infatti vedete previene anche l'angiogenesi consente una comunicazione efficace fra le cellule aiuta a mantenere una sana concentrazione di calcio nelle cellule certo aumenta anche la poptosi quando risulta appropriata quindi la famosa morte cellulare programmata ipertensione vitamina D raggiunge un piccolo inverno di ipertensione causamente con una vasocostrizione l'integrazione a brevi termini 8 settimane con vitamina D3 e riduzione di livelli di pressione sanguigna frequenza cardiaca vista e anche il PTH l'ormone parolitoideo che diciamo un indice biochimico di livelli di osseo nelle donne pari o superiore a 70 anni è stata vista vi ricordo però che attenzione quando si somministra essendo una vitamina liposolubile bisogna tenere conto purtroppo del fatto se ci sia tanta massa grassa questo è fondamentale perché perché questa è la sequestra cioè quindi uno io dico sempre per la personalizzazione milligrammi chilo unità chilo delle sostanze farmacologiche biologiche o sintetiche che siano quindi in questo caso essendo una liposolubile il dosaggio andrebbe veramente rivisto perché c'è un sequestro di fatto un'adduzione di fatto della vitamina D vedete questa che è la vitamina D medis proprio che c'ha guardate un'erba medica è l'alfa poi ci ritorneremo su questo perché c'è un preparato poi c'ha ovviamente il cole calciferolo calciferolo dal pesce sotto forma di vitamina D questo famoso estratto sempre medis che ne favorisce l'assorbimento e il supporto immunitario quante se ne dà allora guardate una volta io ho chiamato ho scritto a loro perché ho detto ma dandone una compressa c'è scritto che sono 800 unità e quindi sarebbero 1.6 se ne do due sì però mi è stato risposto se attenzione causa la eccellente biodisponibilità lei faccia conto che ne assume almeno più di 2000 cioè capito almeno il 25 60 per cento in più di quello rispetto cioè nel senso arrivano tutti ecco questo è il messaggio vi ricordo anche appunto vedete che un'unità sotto io ho messo un quanto corrisponde un microgramma appunto che sono 40 unità vitamina K perché vanno a braccetto sì vanno a braccetto guardate tempo io perché voglio essere sempre ecco nei tempi perfetto scusa Giorgio se metto adesso il cronometro perché nel momento ecco e ecco la vitamina K perché l'ho messa insieme perché guardate è anche questa una liposolubile lo sappiamo perché c'è una regolina che voglio segnare le liposolubili sono A D E K F che sarebbe fat vitamin cioè di omega praticamente la vitamina grassa e quindi sono ADEC ADEC F ok la K noi ce l'hanno insegnata perché è coinvolta la coagulazione del sangue non a caso si chiama così ma non a caso perché dal tedesco coagulation la clovera scoperta è sta vitamina K però poi di fatto nel tempo si è visto che le varie forme di vitamina K non erano solamente coinvolte come si pensava alla coagulazione avevano tanti altri ruoli ruoli importanti per esempio certamente a livello della calcificazione ossea per esempio negli ultimi anni è emerso un ruolo fondamentale nelle protetanti infiammatorie e di protezione della parete vascolare ma come dice parete vascolare sì certo perché vedete sì ho messo la forza la formazione ossea certo insieme alla D lavorano in simbiosi meravigliosa però uno dice sì chi deve essere integratori di calcio dovrebbe assumere la K2 calcio vitamina D eccetera eccetera però attenzione intanto può competere con i recettori periferici della vitamina D ecco perché la K andrebbe data separatamente dalla vitamina D cioè in momenti diversi basta poco anche a differenza di qualche ora ma non contemporaneamente cioè questo è stato provato proprio negli ultimi tempi negli ultimi anni questo fatto prima si tendeva a dare insieme di K non a caso appunto è stato uno dei problemi che io ho diciamo ho anche scritto alla diciamo all'epinutrix per capire questo meccanismo perché la data separatamente come è stato risposto se si documenta bene vedrà che c'è questo problema di interferenza recettoriale a livello periferico tra K e D ed ecco perché quindi andrebbero date separatamente per avere migliore efficacia certo agisce con magnesio vitamina D attiva tante proteine è ravigliosa la K2 pensa che sposta il calcio all'interno del corpo per esempio la osteocalcina famosa osteocalcina che fissa il calcio nelle osse nei denti ma una cosa molto importante sapete qual è attiva una proteina chiamata come GLA della matrice o MGP dall'inglese metix gel a protei che pensate libera il calcio dai tessuti come le arterie lo rimuove quindi la calcificazione arteriosa le vene e anche dalla cute dove il deposto di questi minerali sicuramente diventa dannoso qui c'è rifatto una calcificazione dei tessuti bolli perciò non solo c'è una prevenzione su livello dell'arteriosclerosi ma anche ne ripulisce la calcificazione e ne contrasta la formazione delle placche ateromasiche nelle arterie alcuni studi condotti pensati a livello sperimentale hanno mostrato pensate una diminuzione del 37% del calcio nelle arterie dopo solo sei settimane quindi un mese e mezzo di dieta ricca di vitamina K2 cioè in pratica è come se la K2 è una navetta fa da navetta che coinvolge il calcio dove serve ma in sua carenza il minerale tuttavia in condizioni ovviamente alterate può finire le arterie causando la calcificazione come accade appunto nella formazione poi definitiva della placca ateromasica di cui si diceva poco anzi che è innestrata con una serie meccanismi ma poi calcifica e diventa bella e lì ti voglio come la scalzi quella ma voglia raccontare le statine scusatemi quella non la scalzi nemmeno con lo scalpello parliamoci di altri guardate questa bella di calciriolo il recettore la vitamina D guarda c'è un'attivazione della forma guardate vedete questo acido retinoico il metabolito attivo della vitamina A i suoi recettori RAR RAR vedete e anche di RX lavorano in compartecipazione per attivare l'osteocalcina da inattiva e la famosa diciamo quella che si è parlato la proteina GLA della matrice che guarda caso viene attivata attenzione quindi viene attivata dalla vitamina K2 c'è una carboissolazione specifica di queste proteine per farle diventare attive la vitamina K2 in compartecipazione con la D ma anche con la forma biologicamente attiva dell'acido retinoico della vitamina A quindi va bene questo è molto importante e quando è attivata soprattutto vedete per esempio in questo caso quando attiva la matrice lì basta e il lavoro forte lo fa la vitamina D in congiunzione attenzione quindi attiva questi enzimi per renderli biologicamente attivi queste proteine curcuma beh qui si parla una sostanza che io guardate la droga è il rizoma che è un fustro sotterraneo amo questa pianta l'adoro in tanti sensi proprio amo anche la cucina indiana sicché ve lo immaginate e ce la metto il curry a go-go proprio che ne contiene almeno quasi almeno 60-65% ecco il colore giallo attività biologiche allora guardate quante sono i lavori sperimentali visti accertati certi sempre di più chiaramente alcuni sono ancora vedete antipsoriasi è tutto da verificare antiulcele gastrointestinale epatoprotettiva di sicura antitumorale accertata nei meccanismi neuroprotettiva del sistema cardiovascolare antiossidante per forza antinfiammatoria guardate vedete il pathway quando si va attenzione un estratto come ci dice il nostro carissimo amico professor Iorio una volta mi disse caro Maur mi ricorda sempre tutto ciò è un vero antiossidante tutto ciò che va a stimolare a livello nucleare la produzione di enzimi scudo della cellula e chi sono la superoste di smutasi di cui abbiamo parlato prima la catalasi e la mutazione perossidasi proprio quelli che smaltivano il superossido anche all'interno della matrice mitocondiale quando si formano i radicali che vengono fuori appunto dalla fosfolidazione ossidativa dalla catena respiratoria mitocondiale per la produzione di energia chiaramente poi guardate innesca anche la mutazione S-transferasi e quindi inibisce la generazione di radicali liberi agente come spazzino vero e proprio quindi di fatto un'azione antiossidante alla base importante non tanto come scavengers ma poi guardate di naturalizzazione infiammatoria come pure i famosi radicali superossido per forza perché scusate se attiva questo mi spazzano se detto prima il superossido a livello anche mitocondiale poi la molecola bioattiva che lavora in congiunzione con molti antitumorali ma naturalmente in quel caso lì in prevenzione non la usa come diciamo prevenzione antitumorali se è in congiunzione terapia allora ecco importante sapere i farmaci che assume e vedere eventuali interazioni ma vi assicuro che questa ne dà meno di tutti altri ne possono andare di più per esempio gli estratti del verde possono interferire con alcuni immunoterapici ad azione antitumorale ma questo da quanto mi risulta perché la uso regolarmente anche per questi supplementi questi tipi di diciamo di protocolli vi assicuro che veramente ha un minimo di differenza scusami Mauro la K2 con la cardioespirina si può assumere dicevano chiedevano guarda sì certamente perché è una cosa completamente diversa anzi la K2 allora attenzione se l'aspirina non la dà un discorso degli antagonisti la K2 sono i dicumarolici è diverso ma la K2 anzi è un coagulante è diverso ma questo non vuol dire fa coagulare cioè ci deve essere per avere azione vitaminica coagulante non è che dare la K2 diventa pro-coagulante se uno sta facendo infatti dicumarolici la terapia colcumadine la sua azione anticoagulante è proprio dovuta all'antagonismo verso la vitamina K sono gli antivitamina K però quello lì chiaramente se uno prende anticoagulanti e aspirinetta lì ci deve essere il controllo ovviamente medico importante del cardiologo o chi del medico internista ma si può dare assolutamente non ci sono interferenze grazie proprietà biologica la rucumina guardate oltre a quella che abbiamo vista antinfiammatoria ecco questi sono quelli che ultimamente sono veramente vedete quante azioni su una limitazione ci sarebbe da parlare minimo un quarto d'ora ma ve le faccio vedere perché insomma sono sempre in progresso gli studi una cosa importante di infiammazione la sua azione infatti l'azione si è eccita proprio anche sulla cascata delle prostagrandine che parte dall'acido arachidonico per dare il pato dell'acido ossigenasi quindi la coxune che portano poi alle famose in questo caso purtroppo prostagrandine anche trombogene come il trombosano e le altre prostagrandine o addirittura guardate bloccando la via delle lipossigenasi che porta poi alle costrini molto più involti per esempio nell'asma bronchiale e in altre infiammazioni tipo respiratorio pensate che questa azione è stata proprio preconizzata come un'azione aspirinetto cioè aspirin-like simile all'aspirinetta di fatto quindi dicevano se la prende insieme ci sono problemi ecco vi dico gli studi hanno dimostrato che l'assunzione contemporanea di questa di curcumina a dosaggi normali e l'aspirinetta non comporta un aumento del rischio di morarci ecco non si dà noia più di tanto capito cioè ci vado io ci c'è già te anche perché tra l'altro appunto la aspirinetta blocca per almeno 24-36 ore diciamo la cirossigenasi per questo va data tutti i giorni quindi però di fatto è stato dimostrato come per altre piante anche per il ginger per esempio che non c'era interferenza sulla coagulazione quando il soggetto assumeva almeno la aspirinetta ricordo che c'è una citrochina cattiva nulla affatto il KB attiva è mediatore maledetto proprio infiammazioni tumori c'è sempre c'è slash e sempre e naturalmente quando uno la inibisce bene ha già inibito l'infiammazione per esempio il nostro data formazione che abbiamo fatto appunto nella scuola proprio l'ultima lezione io ho parlato di questo meccanismo di antagonismo cioè d'antagonismo scusatemi al contrario di diciamo con un obbio a delinquere ne parliamo anche con Giorgio nei vari convegni organizzati che esiste tra il nucleo al fatto il KB per esempio e l'HIF che ha dato luogo al premio 9 per il discorso di lipossia allora bisognerebbe combatterlo questo ottenerlo sotto controllo il nucleo al fatto cioè più lo teniamo sotto controllo questo nucleo al fatto il KB è meglio e chi è? la curcumina studi fatti tanti anni fa da quelli che sono i padri della curcumina a Garvale Sing il dice proprio la trascrizione di questo fattore quindi ecco l'azione antinfiammatoria profonda che fa la curcumina ecco vi ricordo tra l'altro appunto ho fatto vedere anche l'altra volta alla scuola che questo a Garvale ha fatto un bellissimo libro che può essere letto diciamo che è scritto per i professionisti ma anche per i cultori della materia che è proprio il potere delle spezie il potere delle spezie scritto che adesso è editor in italiano da tanti anni e io ho una coppia proprio che parla in modo dettagliato proprio di tutti questi estratti erbali soprattutto che a Garobana ha studiato e che parla condito e ricordo anche che esistano i problemi della biodispolumità della curcumina sì oggi sono preparazioni fitosomiche eccetera tutto a posto ma guardate io preferisco sempre prendere una curcumina diciamo estratta da curcuma che abbia il famoso 1-2% di pepe nero perché prima volta il pepe nero di sé non è tutt'altro che tossico che si sta parlando tossico sì a livello gastrointestinale certo se uno è più manciato di pepe non ha senso o esagerazioni ma in piccole quantità diventa un enanse diciamo una sostanza che favorisce la biodisponibilità non solo della curcumina a livello intestinale ma mi risulta anche tante altre spezie e non a caso nel curry attenzione quando le persone mi dicono ma io la curcuma la prendo perché so che la curcuma fa bene come la prendo e ma poi sa ci rimettano con un po' di pepe ma sa un po' di cemento eccetera ho detto ma se ti piace il curry ma mangia il curry c'è la curcuma il pepe nero ma c'è anche il cardamomo c'è la noce moscata c'è una serie di tante tante piante che tra l'altro tutte favorite la presenza del pepe nero per l'assorbimento vedete quanto favolosamente aumenta l'assorbimento in presenza guardate di sola curcuma e basta mettere pensate l'1,2% di pepe ma hanno fatto esperimento sugli umani e sui topi proprio a Garuale e Shoba tanti anni fa quando avevamo visto questo problema di non assorbimento della vitamina allora ecco un preparato meraviglioso LpH2 curcuma attenzione 600 mg tanta roba con il pepe nero vedete la bellezza ne bastano 10 mg quindi se voi guardate quante sono 10 mg in questo caso 10 su 600 cioè lo vedete che è veramente una quota che non arriva nemmeno al 2% proprio l'estratto di carciofo proprio oggi mi è arrivata una news di medico e paziente l'abbonamento che ho medico e paziente l'importanza del carciofo come estratto erbale e fitoterapico ho detto finalmente anche la medicina generale italiana pubblica sempre i suoi articoli anche su medico e paziente una aveva fatta una sul melograno adesso l'ha fatta una sul carciofo sta vedendo un occhio proprio importante sia alla fitoterapia ma soprattutto alla nostra sceutica il pepe nero ma cosa c'è dentro anche 200 microgrammi microgrammi di vitamina k2 melachidione 7 che sarebbe una forma attiva della vitamina k2 allora attenzione quindi quanto ho preparato lo guarda bene come è è antinfiammatorio certo perché la pulcuma è antiossidante è un epatoprotettore anche il pepe a piccole dosi è un epatoprotettore attenzione e poi soprattutto c'è questa k2 avete visto le azioni veramente ben combinate che vanno al di fuori notare che la presenza di curcuma se uno prende per esempio due compresse in questo caso però è sempre bene attenzione consultare un sanitario perché è ottima sostanza con i suoi curcuminoidi ma ricordate che c'è un caso in cui potrebbe essere deleteria quando uno soffre di coliche biliari cioè ha una sabbia o un calcolo biliare allora essendo anche una colagoga stimola la secrezione biliare in questo caso c'è la propulsione anche a livello diciamo dei dotticistici potrebbe causare appunto una colica ecco perché è sempre bene fare uno screening alla persona e dire si sono esclusi non si può prendere così ecco generalmente non c'è questo problema sulla maggior parte della colazione però se ci fosse dà anche questo tipo di problema anche se io nella mia esperienza una paziente che avevo trattato per un anno con l'estratto di curcuma che ha detto un anno dopo c'è una calcolosi biliare ha detto signora e me lo dice ora cioè e non ha mai avuto problemi mai avuto problemi vabbè meglio così ha detto però doveva dimmelo subito cioè gli ho fatto una certa tipo di indagine e lei non mi ha denunciato niente quindi però ecco ricordatevi come tutte queste cose vanno sempre valutate ad personam che fa la differenza per un professionista arriviamo al coenzima Q10 vedo sempre l'ora io voglio essere sempre preciso allora bene allora questo qui guardate fa parte della catena respiratoria mitocondiale guardate il lavoro il ruolo fondamentale quando qui si produce ATP energia cellulare con i cinque complessi complesso 1 2 3 4 5 adesso siamo ATP sintetasi o sintasi meraviglioso meccanismo che ha portato al premio nobel questo qui guardate lo vedete lì attenzione il ruolo con i cinque 10 e al centro tra 1 2 3 smestatori di elettroni con la partecipazione del FAD vitamina B2 attivata da questa parte del NAD vitamina B3 quindi vedete quanto che ruolo abbia cruciale proprio sulla membrana del mitocondrio quando esercita questa azione diciamo di shuttle di flusso elettronico nella catena mitocondiale ma allora lo dice è importante certamente anche un antiossidante perché guardate questo suo ruolo lo fa diventare la famosa armonizzazione del network del sistema antiossidante come funziona è proprio oggi un carissimo amico collega che ci sta ascoltando ci siamo sentiti stamani e mi ha detto bisogna capire un po' meglio questo discorso del network antiossidante perché guardate se uno ha dei radicali liberi per esempio da parte dei perossi lipidici che attaccano in modo molto importante la membrana cellulare c'è la vitamina E che ci protegge ma nel fare questo diventa essa stessa un radicale un radicale tocco ferile molto importante e va smaltito e chi lo smaltisce questo network che è fatto ha scorbato vitamina C che diventa ascorbato dirascorbato che a sua volta viene rigenerata dall'acido lipoico guardate che lavoro ma a sua volta il dirascorbato viene vedete entra nel giro importantissimo che fa diventare utilità GSH da ridotto a ossidato che potete rigenerare come ascorbato ma a sua volta GSH che è collegato guardate alcun enzima Q10 forma ridotta formosidata eccola come si è detto NADPH il succinato guardate il NAC vedete qui in questo caso viene nascito il sistema come precursore fisiologico anche di GSH importante molecola a scudo il glutatione ridotto chiedete questo network dice come fai a saperlo allora se te c'hai situazione classica se introduce una certa dose di vitamina E devi guardare te 4 metri 8 mg bene vedete i rapporti come sono qui sono rapporti volari 1 a 1 ciò significa per esempio che se io metto ad esempio non so 200 mg di vitamina E devi vedere il peso molecolare reale per il composto che lo metti calcolare la vitamina E in moli e le stesse moli devono essere quindi ben bilanciate di acido ascorbico come pure anche di glutatione come pure di acido lipoico quindi vedere i rispettivi pesi molecolari da cui si ricavano i mg cioè i rapporti molari che portano i mg questo è importante capire ecco l'armonizzazione certo non bisogna essere stechiometricamente esatti ma soprattutto quando si usano dosi più elevate questo scorso va considerato perché si rischia addirittura di far avere un effetto non antiossidante ma proossidante soprattutto quando si dà molta vitamina E attenzione ecco perché molti trials clinici che la usavano alla prevenzione sono falliti per questo motivo molto importante questo fatto da tenere presente quindi che protegge i polmoni funzioni cardiovascolari che ho messo qui sono dispense per farvi vedere questi a molti dispensa questi in un olbo di Parkinson in quante situazioni può essere usato il Q10 ma non ci scordiamo chi fa le statine ma anche chi fa il riso rosso fermentato che già spesso c'è dentro e ancora non riesco a capire come mai a livello di linee guida nazionali non si è entrata in testa questa cosa ti dai una statina crei miopatia miopatia mitofondriale e non dai il Q10 per proteggerla ma guardate è una cosa clamorosa questa cioè veramente è inconcepibile comunque questo accade chi prende le statine e chi le prende io non mi voglio esprimere ma la gente che mi ascolta non sa come la penso assolutamente ha bisogno di un'enzima Q10 assolutamente e quindi vedete ecco io ho messo a porta quanto è importante vedete ecco io ho messo proprio un pubblicato su American Journal di cardiologi proprio a proposito di questo quindi l'importanza del Q10 è quando si assume i bisogni della sintesi e colesterolo nella stanchezza cronica anche nel volume abbiamo fatto con Garitano io sono occupato di questa parte ci ha partecipato anche Giorgio parlando del discorso epigenetico si parla di sindrome di stanchezza cronica anche e vedete che uno studio aveva analizzato un'integrazione separata tra Q10 ginseng e il DEA e l'epidro e l'androsterone hanno visto che nella risoluzione della sintomatologia il migliore era proprio il Q10 rispetto agli altri poi c'era anche l'idea appunto e il ginseng ma il quasi il 70% aveva un miglioramento dei sintomi dovuti a una somministrazione perché non c'era il self-food sennò batteva tutti se no si raggiungeva 100 ecco l'epi Q10 oh io allora quante ne prendo io regolarmente perché quando sto parlando di queste cose io di tutta sta roba io spesso la prendo cioè nel senso il Q10 per esempio tutti i giorni io le prendo due complesse perché parlando sempre con l'epinutics mi hanno detto i 100 mg del Q10 sono quasi 200 delle formulazioni tipiche su cui hanno fatto gli studi e con 200 mg secondo gli studi di Q10 quindi ne basterebbero qui 100 o massimo se complesse si ha un'eccellente prevenzione cardiovascolare soprattutto a livello del fatto l'azione antipertensiva importante c'è un'azione importante anche sull'endotelio quindi sul vaso di rassamento vediamo altre due piante bellissima una si chiama Pigeon Pigei africani cortex la corteccia e l'altra sono i semi di zucca ma perché non ci parli di questo perché c'è un problema è il nome maschietti io non ce l'ho perché forse ho fatto prevenzione ma spesso maschietti ce l'hanno c'è che riguarda la ipertrofia prostatica spesso benigna meno male ma che può evolvere anche a situazioni maligne quindi a carcinoma della prostata bene allora guardate questo qui questa pianta africana ha dimostrato una eccellente azione anti-endimigena che inibisce le prostrate dell'andiere e dell'eotriani come se l'ha visto per la cucuma tanto è vero che anche la cucuma è legata a questo scopo contribuisce all'aumentare dell'elasticità vescicale e quindi grande aiuto è quello che si chiama BPH cioè dall'inglese ipertrofia sono stati irabegna ma i semi di zucca da tanto tempo si sapeva che l'olio di semi di zucca aveva questa bellissima azione sulla prostata l'olio estratto dai semi di zucca e allora guardate adesso prima era un po' di medicina popolare negli ultimi anni gli studi hanno confermato che effettivamente c'è un'azione molto molto positiva anti-infiammatoria esercitata proprio dai semi cocurbite qualità peponis che sono i semi di zucca e allora vedete mettendoli insieme io vi metto vedete vedete sempre le notizie a molti dispensi affinché possiate leggerle cioè io lo ho messo perché se no che dico rimane così ma se non vi ripassano le dispensi mettendoli insieme c'è un'azione sinergica sulla prostata meravigliosa e ci hanno preparato certo che c'è siamo a prostatene vedete c'è quindi una prostata sana e magre c'è un meno ingrossata semi di zucca estratto di semi di zucca estratto di pigium in formulazione col solito estratto medis che ne favorisce oltre al supporto immunitario la biodisponibilità ecco guardate questo è veramente un'ottima preparazione tuttavia io attenzione dovessi consigliare anche e potrei consigliare guardate ci ho messo anche un protocollo ve lo faccio vedere qual potrebbe essere il protocollo giusto per la prostata arrivo subito dopo intanto ricordate questo ottimo preparato poi arriviamo ai glucosinati come sono? sono dei glucosinati sta andando via la linea riprova un po' sì i glucosinati sì sono dei composti glucosidici vedete che contengono ecco infatti me l'ha detto contenzione internet non stabile mi ha dato questo messaggio sì sono composti caso mai avvisami Giorgio se non si è sentito la nota la ripeto allora sono composti vedete glucosidici contenenti zolfo delle brassicacee qui fanno parte cavoli cavoletti di Bruxelles tutto ciò che è tutto cioè guardate è veramente la famiglia dei cavoli questa cavolo verza allora cosa contengono loro? cioè composti fra cui emergono gli iso chiosinati e tutti i loro derivati vedete quindi rape cavolfiori verza cavolo nero però attenzione questi qui sono presenti come se fossero lucchettati no? nella forma diciamo zuccherina quindi diciamo diciamo come glucosidica tutta la polpa non si capisce niente non devi ripetere Mauro ripeti dicevo che sono presenti ovviamente dentro questi iso chiosinati nel caso in cui però la cottura venga molto molto in queste piante questi estratti ottaggi venga molto prolungata ovviamente si ha una distruzione c'è una disattivazione di questi tipi di composti e allora vediamo un pochino come si potrebbe risolvere il problema intanto una cottura va fatta in maniera veramente scottata al vapore e veloce per poter utilizzare al massimo e mai fatta la bollitura qual è di tutta questa famiglia l'isotiocianato con maggiore attività antitumorale è il sulforafano proprio e il dosaggio guardate l'ideale sarebbe il sulforafano titolato al 10% dall'estrato dal broccolo 200-500 mg c'è un aforismo che dice il cavolo manda medici medicine al diavolo attenzione il cavolo manda medici medicine al diavolo azione protettiva molto importante antinfiammatori antimicrobio anticancro vista con tutti i derivati elasticace sono ricchi appunto di sulforafano in particolare ma guardate soprattutto solamente per non dire un'azione fondamentale la produzione di GSH del famoso oscuro che si è visto prima il GSH il dosaggio ridotto quindi guardate c'è uno che ipotizza delle piante un ruolo di cosidati sia anche da funzionare come zolfo bioattivo ridotto questa è la cosa fondamentale un'altra l'azione poi dimostrata da parte del sulforafano e vedete infatti eccola qua ecco vedete l'azione guardate ve la faccio delle merbi i getti per esempio delle di broccoli sono i migliori proprio diciamo il getto giovane del broccolo è molto ricco il sulforafano anzi è ricco questa gruforafanina che sarebbe diciamo il glucosinolato cioè quindi la farmacucosidica legata allo zucchero vedete il chiocianato eccolo qua poi c'è un'enzima che è già presente dentro ma per attivarlo bisogna masticare la masticazione oppure la stessa flora intestinale quando è ben fatta una bella microflora favorisce il distacco e si forma il sulforafano eccolo qua il migliore vedete si diceva al 10% dal strato di broccolo dai 200 ai 500 mg per le relazioni eccolo qua i giorni i giorni i giorni i giorni i cavolfiore sono ricchi di questa blu raffanina che si è pura cosinato quindi è chiaro se c'è una c'è una cottura molto elevata a temperature elevate o di tu una bollitura la disattiva di fatto sapete dove agisce questa questa sulforafanina questo sulforafanino su un fattore che si chiama nrf2 un fattore di trascrizione che svolge un ruolo centrale nei geni di fase 2 legandosi nel dna a questo elemento di risposta antiossidante che significa lui attiva questo nrf2 napoli roma firenze napoli roma firenze 2 per attivare a livello nucleare questa sequenza che si chiama vedete elementi di risposta antiossidante che codificano gli enzimi deputati alla protezione cellulare eccoli qua e sapete come li attiva guardate perché questo sulforafano questo nrf2 nella cellula sarebbe bloccato da un un fattore di controllo un lucchetto che si chiama proteina keep one cap vedete qua bene il sulforafano lo stacca vedete stacca il keep one dall'nrf2 cosa si separa lo attiva l'nrf2 va nel numero va nel numero proprio per la presenza da un'altra proteina ripeti questo concesi che non si è sentito ripetilo si dicevo quando si va quando si va al livello diciamo del sulforafano che cosa succede questo va praticamente a staccare la proteina che a livello cellulare del citoplasma tiene legato l'nrf2 che si chiama keep one vedete la separe a livello citoplasmatico l'nrf2 passa nel nucleo trasmira nel nucleo li trova accoppiata a una proteina si chiama MAF e quando si accoppia che è un coattivatore si attivano i geni a livello nucleare che portano alla biosintesi degli enzimi detossificanti antiossidanti quindi gli elementi come si diceva prima questi elementi vedete di risposta antiossidante e quindi una protezione importante e a questo punto si ha vedete un blocco di tutta l'attività per esempio dei ross ma non solo tutte quelle che sono la detossificazione in generale il pene composto fitochimico pigmento rosso del pomodoro uno dei pochi pensate che quando si va a cuocere la salsa non tanto il pomodoro ma la salsa di pomodoro ne aumenta la biodisponibilità un caso veramente raro lui cos'è è un sequestratore di ossigeno attivo perché c'ha due ulteriori doppi legami che fanno la quenchere dell'ossigeno quindi l'ossigeno è anche attivato tipo il superoste o il singoletto attenzione non è però non è un precursore della vitamina A ai di copene come si possa pensare vedete che lui agisce in maniera indipendente eccolo qua guardate questo è tutto il network visto prima che vi ho fatto vedere prima nella slide ho preso da un libro francese ma vedete l'azione separata del licopene indipendente dal beta carotene con la sua azione perché guardate qual è il discorso dipende dalla localizzazione cellulare il licopene si trova nella membrana dove la sua azione è ridotta perché non può che essendo decisamente più liposolubile non può interagire con radicali in fase acquosa ma inibisce i famosi radicali lipidici al pari della vitamina E in congiunzione con la vitamina E ma lui stesso però non genera radicali attenzione è molto importante perché è proprio un quencher di questi radicali quindi rappresenta una prima difesa importante scudo diciamo della membrana cellulare infatti poi il suo lavoro ovviamente si completa con tutti loro quindi pensate a un'azione più specifica che si esercita a livello della membrana quindi la tuttura diciamo più liposolubile e vedete le sue azioni che vi ho messo guardate quell'attivazione che vi dicevo prima eccoli qua GSH catalasi elossigenasi lmrf2 la superostridismutasi ma guardate lavora in congiunzione da solo inibisce nuclear factor kb per attivare lmrf2 vedete questa bellissima azione eh diciamo diversificata cioè attivando lmrf2 tra l'altro fa già questa azione specifica contro la famosa citochina nuclear factor kb ma la fa anche da solo allora ecco un preparato meraviglioso estratto di broccoli 640 mg iacopene 16 mg il medis pizza extract va al solito per favore dell'assorbimento dice bene come si usa questo prodotto prevenzione io faccio decicli per esempio due mesi interrompo 20-30 giorni lo riprendo per altri due mesi poi decicli ovviamente alternati è sempre bene anche ristorare un po' la sollecitazione a livello dei geni nucleari faccio due mesi pieni di trattamento interrompo una ventina di giorni massimo un mese e poi lo riprendo allora guardate il protocollo della prostata è di sul forafano una capsula per due volte al die prostalin una per due volte al die ma vi vorrei dire anche k2 in aggiunta la stessa curcuma 600 mg anche una due volte al die sarebbe il protocollo completo questo di base specifico della prostata però vi ho messo appunto questa questa slide dice il licopene saluta della prostata molto importante poi si parla di un altro tipo di guardate il mineral comp allora pensate aminoacidi minerali vitamine solo da piante cioè questo è un estratto fitoterapico a integrazione minerale vitaminica completo io ne faccio dei cicli ma chiamerei anche per certi versi anche una oligoterapia integrata perché veramente anche tanti oligoelementi quindi quali sono le piante l'urtica ha un'azione anche lei tra l'altro sulla prostata notare l'alfa si diceva prima il trifoglio l'alga cap ora se ne parla un attimino la papaya la damiana e qui vedete le azioni ma guardate questo qui per esempio l'urtica tutte le azioni le ho messe in composizione i flavonoidi la pianta è ricca anche di silicio l'urtica non ce lo dimentichiamo l'alfa con le verdure più nutrienti al mondo la famosa erba medica vitamine di tutti i tipi guardate sia idro che liposolubili vedete bellissimo qui A, D, E, K ma anche l'erco sarebbero due mega infatti è vero guardate dei semi che germogliano contengono anche gli acidi grassi essenziali omega 3 omega 6 anti minerali incluso il calcio il trifoglio violetto più di 125 composti chimici contiene anche l'isoflavoni dice hanno un'azione estrogene attenzione al cancro guardate tutte boiate cioè non è stata dimostrata questa cosa di isoflavoni e carcinoma mammario ve lo dico subito cioè la cosa veramente a livello clinico non c'è stata poi una conferma assolutamente attenzione attenzione però l'alga bruna l'alga bruna l'alga help contiene tanta bella roba ma vi ricordo che contiene anche lo iodio allora cosa vi dico io se dovete darla a un soggetto ipertiroideo consulto medico cioè femmi cioè teniamo conto anche di queste che sono le famose controindicazioni cioè non è un effetto è una controindicazione cioè lo so che sono più facili gli ipotiroidei alla grande però se ci fosse il problema soggetto ipertiroideo in questo caso ne va considerato questo aspetto la papaya è una dalla papaina è un antidemigeno insieme alla brunolina sono due piante diciamo papaya e ananas sapete sono degli anti infiammatori meravigliosi bella ricordatevi l'ananas il gambo soprattutto non tanto la polpa e la daniana in fondo contiene tutta questa bella roba di azione ovviamente di supporto anche non solo di quando noi diciamo un supporto corroborante un supporto pieno di stress i minerali ma soprattutto guardate è una foria la daniana addirittura è negli ultimi studi scritto sul libro anche scritto sul discorso della fitoterapia nell'insufficienza sessuale la daniana supporta proprio la funzione sessuale sia nell'uomo che nella donna attenzione in entrambe i casi arriviamo al Cieli Immuni allora a questo punto sono già messo bene perché sto bevendo che sto ripetando i tempi in maniera meravigliosa anzi guardate poi faccio i protocolli quindi adesso lascerò faccio i Cieli Immuni per esempio il Bione Eugenia che avevo presentato anche l'altra volta poi lascio la parola all'amico Bartolo anche Guido se vuole dire qualche cosa mi sembra va dal corso che fanno poi riprendo io per darvi tutti i protocolli finali tutto ciò che ho detto va tutto protocollato e applicato a livello clinico questo sono dato un po' di forza chiaramente però vi ricordo io vi lascio le dispense per tutto dove si è scritto tutto in dettaglio ma vi invito anche a questo messaggio perché quando faremo poi il 12 maggio di quella tutti questi concetti li farò in maniera molto espansa molto importante più dettagliato anche sui meccanismi per capire di più a profondo la sera la serata era per i protocolli Sali Immuni messa a punto la dottora Armanetti persona anche umanamente splendida un biologo veramente bravo a livello erboristico veramente ha fatto una formulazione che secondo me è geniale cioè lui ha messo insieme un estratto di una serie di piante guardate c'è un scudo e supporto di tutto il sistema immunitario ha preso le migliori piante che avevano questa azione antivirale e di stimolazione del sistema immunitario ma non solo direi anche antibatterica secondaria cioè antibatteria e antibiotici sì ma secondaria vuol dire che tu inneschi dei meccanismi per cui i batteri in ogni caso ha difficoltà a riprodursi o a svilupparsi allora guardate ecco il potenziamento vedete antivirale antinfiammatoria guardate quanti componenti ma chi è questa se tu la guardate bene è la famosa litotamium del cell food perché il cell immuni formulato quello idale da stare anche sublinguale ma anche intraorale sappiate ha proprio una formulazione colloidale per favorirne il bioassorbimento a livello delle mucose cutanee ovviamente le mucose ovviamente la mucosa orale e anche sublinguale ma vedete che bellezza guardate quante piante andrographis paniculata ne sta venendo fuori un sacco di studi sulla sua azione antivirale e immunitaria il mirtilo nero non ha bisogno di penetrazioni la merissa la scutellaria la stragalo il gincobiloba che è pure il pelargonio la salsa pariglia l'artiglio di tavolo antinfiammatorio la cannella antidiabetica anche il rosmarino azione anche anticolestrose vogliamo accetti dosaggi certo volontaria non antivirale l'origano meravigliosa antivirale l'origano e poi il crutazione stesso allora guardate io vi ho messo qui alcuni estratti dei lavori che sono usciti ma ne stanno uscendo ne potrei mettere guardate 100 veramente ne ho messo alcuni più importanti per esempio Nesher ha fatto anche un estratto a parte sulla scutellaria l'andrographis stanno uscendo una valanga che vi documentiate sull'andrographis paniculata sono sempre più lavori sul sistema immunitario il gincopilo va pure il pelargonio meraviglioso guardate sull'azione antimicrobica antivirale in modo modulante la stessa uncaria che un tempo anche adesso è data come supporto alle patologie tumorali per stimolare il sistema immunitario in maniera adeguata la stradalo molto spesso in congiunzione con l'echinacea lo troviamo ma qui in questo caso anche con uncaria in lacanela c'è il cinnamo il zamburo stesso guardate io ho messo anche alcune note specifiche sulle proprietà antivirale nel stato di sambuco e sull'attivazione del sistema immunitario l'origano come dicevo tutta una sinergia di piante in questo medium colloidale per favorirne l'assorbimento e per avere un'azione quindi sinergica modulata quindi ecco che dicevo somministrazione spray intraorali del prodotto ne garantisce la migliore bisognibilità per massimizzare l'assorbimento internazioni bio il biologen altro prodotto meraviglioso fisioterapia sempre fatto dalla tutta l'america della sua formulazione ne ho parlato anche l'altra volta vedete molte piante si ritrovano anche qui guardatelo la schizza la pesa in più guardate la salsa fariglia l'artiglio del tavolo la damiana se la vista nel milano comb la scutellaria ma c'è anche i semi in polvere di cacao l'andrographis allora tutto questo mix oltre a esonazione anche immunitaria dove lavora bene lavora bene perché è veramente un depuratore questo è una sostanza cioè un mix depuratore eccoci questo lo definirei certo questo mix ha tante azioni perché l'amica di Manettina ha messo veramente una formulazione questo trattore è a gocce è a gocce va bene sbattuta cioè va bene diciamo scossa prima dell'uso perché chiaramente è una sostanza per la sua composizione in tante piante può creare un sedimento ecco perché va sempre omogenizzata prima di somministrarla vedete quante tipi di azione può avere i biologeni io come le uso come il depurativo facendo dei cicli di depurazione veramente col self-food meraviglioso infatti nel protocollo vi farò vedere dopo c'è il protocollo detossiferante della matrice dove il biologeni è fondamentale e vedete allora guardate un'altra volta lo faccio vedere anche alla lezione una volta scorsa per ripeterlo il benessere la pelle acne quante gocce ne va ammesso per un discorso di acne e brufoli ho provato personalmente su dei soggetti l'acne grave anche il benessere intestinale perché certe piante lavorano molto bene anche sull'osprime intestinale decido mensile alla donna addirittura questo anche per la presenza dell'adamiana e la funzionata della prostata stessa anche per certi componenti come il luncare dell'adamiana presenti dentro quindi vedete addirittura è stato fatto uno studio anche sul reparto di dermatologia a livello ospedaliero per vedere più relazioni sull'acne risultandone veramente molto molto efficace col viene già in gocce quindi è stata una sperimentazione clinica ad hoc questa tabella sinottica io l'ho fatta per Giorgio anche nel sito Giorgio mi chiede di fare una diciamo rimettere a posto proprio una tabellina che potesse mettere tutti i preparati vedete il discorso è disponibile sul sito adesso so che lo sta rinnovando anche il caro Giorgio formulazione polma farmaceutica presentazione confruttura e trattamento vedete composizione azione indicazione e posologia ecco la tabella sinottica tra l'altro Mauro questo documento fa parte della tavola sinottica che Arnica Ingros ha dentro al documento che si chiama Visual basta scrivere ad Andrea ad Alizi info chiocciola arnica punto it e possono avere materiale anche proprio una guida di come utilizzare al meglio questi prodotti certo ecco io questo protocollo l'avevo fatto con le indicazioni della posologia bene Giorgio io per la parte di base a questo punto quando dopo ci riprendo ti faccio vedere tutti i protocolli di supplementazione in base a ciò che abbiamo detto sia oggi che anche integrando quella parte la volta scorsa dei dosaceutici in forma colloidale quindi per ora lascio la parola e quando me la ridai faccio vedere tutti i protocolli grazie Mauro grazie di cuore e complimenti allora magari non so se è già collegato Bartolomeo Allegrini dottor Bartolomeo ci sei Bartolo? sì mi sentite? eccolo qua sì eccolo ti sentite bene? sì ti sentiamo come sapete Bartolomeo Allegrini insomma medico di medicina integrata medicina funzionale e da ormai trent'anni si occupa proprio di di supporto in moltissime situazioni cliniche e allora ho detto chi meglio di lui può darci anche la sua esperienza clinica e allora Bartolo se abbiamo proprio come sai i minuti contati ma ti aspetti ti ascoltiamo con molta attenzione e poi daremo cinque minuti la parola a Guido Marini e a Monica Greco lancia il il video online cioè in presentazione metterlo in presentazione Bartolo all'inizio presentazione c'hai presentazione vicino animazione presentazione clicca lì dall'inizio perfetto ok ok sì diciamo non ho molto tempo però volevo proprio legare in questo mio intervento le due serate che sono state fatte dal dottor Miceli per comprendere proprio l'importanza di avere a disposizione una serie di strumenti così profondi in ambito di regolazione nutraceutica perché diciamo che fondamentalmente essere operatori naturali significa anche interpretare la fenomenologia clinica in maniera semplice perché essere naturale significa fare le cose con semplicità molte volte noi medici anche attraverso l'eccessivo operare farmacologico interveniamo nella genesi di molte patologie come vi farò capire da questi venti minuti in cui vi farò comprendere come quando noi parliamo di salute dobbiamo tenere presente che la salute è un equilibrio precario che dipende da tante capacità e diciamo che in termini semplici considerando anche quello di cui si è discorso in queste due serate vedete la salute è un equilibrio instabile che va riconquistato attimo dopo attimo quindi ci predispone ad un senso di responsabilità che deve partire certamente dall'operatore sanitario ma deve anche coinvolgere il paziente e il paziente moderno di fronte alla malattia moderna deve diventare un coprotagonista della sua salute perché la visione reale della salute è una visione antropocentrica che mette la persona al centro e la possibilità di informarlo di determinate soluzioni nasce dal fatto che proprio attraverso la semplicità di alcuni interventi noi potremmo allontanare molte volte la fenomenologia simbolica con cui il corpo manifesta il suo squilibrio che noi chiamiamo sintomi che chiamiamo malattie che chiamiamo disfunzioni ahimè oggi sempre più presenti in un'epoca in cui stanno comparendo sempre più malattie con entità nosologicamente non definite e quindi l'equilibrio vedete è fra una capacità di produrre tossine veline acide una capacità di eliminazione noi siamo immersi in un liquido che siamo acqua ne avete parlato la scorsa volta e questo liquido quante volte lo consideriamo da un punto di vista medico quante volte consideriamo che questo 60 65 55 per cento poi dipende se siamo più giovani meno giovani se siamo uomini donne e ci dimentichiamo anche ahimè spesso dell'interstizio no e l'interstizio è proprio un terreno di cultura delle cellule è il mezzo in cui le cellule dell'organismo comunicano tramite mediatori chimici ed esprimono la funzionalità recettoriale è il terreno di cultura delle tossine è il terreno di cultura degli agenti patogeni abbiamo visto anche la scorsa volta quando abbiamo parlato della linea nutraceutica del self food come rimedi importanti come lo stesso MSM la silicia no? ma lo stesso self food possono lavorare su questo livello e noi se vogliamo fare la differenza non possiamo andare a lavare solo le piastrelle ma dobbiamo andare a fare una pulizia un po' più profonda una pulizia più profonda perché vedremo poi successivamente con che tossine abbiamo a che fare perché fondamentalmente vedete l'omeostasi del liquido interstiziale è il mare primordiale l'interstizio dove si è formata la vita è un liquido che ha le stesse caratteristiche del mare primordiale e da esso le cellule traggono le sostanze nutritive per il loro metabolismo in esso le cellule che scaricano i residui tossici di cui si devono liberare e diventa quindi fondamentale attivare un sistema di pulizia che preveda di mantenere pulito l'espazio perché la cellula vedete è teoricamente immortale è il liquido del quale è immerso che si degrada per cui se noi abbiamo degli strumenti come quelli presentati queste due serate come il Cell Food come il Bionergen come la Silicia come l'MSM ma anche come gli altri della linea Epinutrix ebbè noi dobbiamo pensare che possiamo rendere la nostra cellula teoricamente una cellula più vicina alla sua capacità di regolazione metabolica e quindi mantenerla più in vita con qualità cosa che chiaramente non consideriamo perché la medicina chiaramente in generale non parte dalla cellula ma va a guardare altro però la malattia non nasce per caso ma nasce per caos lesivo autogenerato e vedete la lesione mitocondriale provoca un deficit energetico non emettendo elettroni a livello del mitocondrio per cui crea uno stress elettronico che la cellula poi deve provvedere a ripristinare e lo fa generando una malattia o una reazione che noi chiamiamo sintomo attraverso dei meccanismi compensatori e d'altronde è molto importante tenere presente anche l'equilibrio acido base della cellula e quindi ancora di più Giorgio parla sempre dell'importanza del self-food abbiamo visto come il self-food diventa un capisaldo e secondo questa visione che vi sto esponendo ancora di più considerando che siamo di fronte a un equilibrio tra nucleo che ha reazione acida e citoplasma che ha reazione alcanica alcalina scusate questa differenza determina proprio la vitalità della cellula e attraverso proprio il fatto che la cellula alcalina si confronta in continuazione con l'interstizio tramite la membrana cellulare l'acidità del liquido extracellulare diffonde nel citoplasma neutralizzandone appunto l'alcanità e abbassando il potenziale elettrico quindi è importante avere a disposizione degli strumenti a livello nutraceutico che possano intervenire sull'equilibrio cellula interstizio e tutto questo poi si concilia col concetto di terreno terreno inteso chiaramente come il milieu dove da una cellula sana se siamo di fronte a uno squilibrio a un carico tossinico si iniziano ad avere danneggiamenti a livello dei recettori di membrana ci sono alterazioni nelle comunicazioni intercellulari sappiamo anche poi l'alterazione del ruolo di alcuni mediatori chimici importanti per certe funzioni metaboliche di certi ormoni di certi recettori di neurotrasmettitori e soprattutto i potenziali di membrana e me anche molte volte dimenticate e io che invece attraverso la BIA vedo sempre il fattore di conduttanza cellulare è importante andare a stabilire quanto è il potenziale di membrana preservato che è fondamentale per ridurre le conseguenze di un terreno malato che porta vedete poi al rallentamento dell'attività cellulare con liquidi organici che circolano con difficoltà con i tessuti e gli scambi cellulari che rallentano l'ossigerazione diventa deficitaria i rifiuti non vengono espulsi e le cellule sprofondano sotto le tossine creando chiaramente tutte quelle che noi chiamiamo lesioni infiammazioni degenerazioni di tessuti e dei vari organi è importante ma non è questo questa la serata di cui parlare del concetto di acidosi per esempio dopo domani sera Giorgio farà una bella serata in cui si parlerà di fibromialgia che è una delle grandi patologie moderne sistemiche dove c'è proprio un'alterazione a livello del pH tessutale beh considerate che quando noi siamo di fronte a uno stato di attività metabolica cellulare abbiamo una iperproduzione di ioni H più che la cellula vedete normalmente elimina nella matrice con un gradiente favorevole di 4 a 1 e il passaggio degli ioni H più all'esterno viene favorito chiaramente anche dalla permeabilità della membrana anch'essa regolata dal pH con meccanismi elettrofisiologici e la correzione chiaramente del pH avviene soprattutto nella matrice extracellulare ecco perché è importante lavorare sul principio di equilibrio fra cellula e interstizio è fondamentale e quindi quello di cui abbiamo parlato queste sere dell'importanza del self food del same poi vedremo la funzionalità per esempio del fegato come centro di metabolismo ossidativo ma tutto quello che facciamo per poter ristabilire una ottimizzazione degli scambi fra la cellula e la matrice cellulare mantenendo in equilibrio la membrana cellulare oggi abbiamo più possibilità di poterlo fare anche perché non è questa l'occasione ma ne parleremo prossimamente c'è la possibilità con uno splendido strumento S-Drive attraverso questo dispositivo di raccogliere una rete di informazioni che riguardano proprio questo tipo di alterazioni e quindi se noi impariamo ad associare questa rete di informazioni possiamo chiaramente lavorare sulla cellula e favorire una azione adeguata della matrice stracellulare dove normalmente avviene un'escrizione fisiologica attraverso i polmoni i reni che eliminano sia i polmoni gli acidi cosiddetti deboli e i reni invece gli acidi forti gli acidi metabolici attraverso poi una fisiologica azione tampone di tamponi come abbiamo parlato la scorsa volta dell'importanza del silicio ma anche oggi Mauro ha parlato benissimo del ruolo della vitamina D della K2 è importante mantenere altrimenti si va in decomposizione ossea si iniziano a prelevare dal corpo citrati fosfati carbonati fino ad andare chiaramente in una fase compensatoria patologica adattativa dove vengono prelevati minerali molto più profondi come il calcio e il sodio chiaramente quando siamo di fronte a una situazione del genere possiamo trovarci tanti sintomi tanti sintomi ma noi dobbiamo poi fare i conti con questo dobbiamo fare i conti poi con questo aspetto il terreno si deteriora o per carenza e quindi un terreno carente non offre alle cellule ciò che di cui ha bisogno e quindi un deficitare apporto di vitamine minerali oligoelementi zucchero amminoacidi acidi grassi ecco perché diciamo dobbiamo ricorrere a un'azione nutraceutica proprio per questo perché la malattia nasce spesso da carenze perché in questa società industriale è industrializzata no? è strano che abbiamo patologie da carenza io sono un medico anche in una squadra di calcio molte volte dico agli atleti voi andate più spesso in carenza perché non solo non supportano adeguatamente con l'alimentazione ma non integrano bene oggi invece grazie anche alla disponibilità di strumenti come S-Drive possiamo arrivare a fare un lavoro di questo genere tutta la nutraceutica di supporto di cui abbiamo parlato queste due sere è fondamentale allo stesso tempo un terreno si deteriora per un eccesso di accumulo di scorie tossiche tossine varie batteriche parassitare fungine radicali acidi scarti metabolici anidide carbonica vedete acido urico urea e chetoni è chiaro che la carenza è più facilitata da uno stile di vita particolare da uno stesse eccessivo dalle diete dallo stile di vita ma noi sappiamo che poi quando il terreno si deteriora quando si altera questo equilibrio e quindi fra il carico tossinico e la capacità di ossidificazione e il drenaggio nasce la malattia ma noi che facciamo non andiamo a guardare l'origine cioè non andiamo sull'alterazione biochimica bioelettrica che porta a sofferenze a livello recettoriali a disturbi subclinici dove c'è la sofferenza cellulare ma aspettiamo la sofferenza ad organo spesso andiamo a creare chiaramente una fase di ritardo terapeutico che è importante perché se noi interveniamo precocemente nella fase cellulare dove spesso inizia a lavorare la medicina integrata non andiamo alla fase dove invece il carico tossinico eccessivo a livello di diciamo mesenchima e di tutto quello che può essere anche il letto capillare linfomatico e tutto ciò che può succedere poi a livello del connettivo e altro chiaramente porta poi a una patologia d'organo quindi noi abbiamo una necessità quello appunto di comprendere come attraverso proprio questi strumenti terapeutici naturali che di cui abbiamo una grande disponibilità ed abbiamo anche la fortuna di poter informare tantissime persone ho visto che stasera siamo intorno alle 200 persone noi possiamo fare un lavoro di prevenzione notevole possiamo fare anche un lavoro nelle varie fasi della patologia ma dobbiamo considerare che questo tipo di lavoro è fondamentale perché abbiamo a che fare con tanti tipi di tossine che l'organismo deve poi eliminare ma mentre da un lato noi abbiamo tossine metabolizzabili che sono gli scarti del metabolismo poi li vedremo abbiamo anche tossine non metabolizzabili e per esempio S-Drive serve anche per andare a cercare queste quando noi abbiamo tossine non metabolizzabili vedete come coloranti conservanti pesticidi additivi e altro e abbiamo anche tossine parzialmente metabolizzabili in questo ci entrano di proprio a pie spinto i farmaci ma anche sostanze degradate chimiche degradate a metà e vaccini beh considerate che il carico tossinico diventa importante e quindi abbiamo spesso blocco di alcune fasi metaboliche dove l'intervento nutraceutico diventa importante io parlo molto spesso della triade bioenergen self-food e same nella gestione della malattia cronica del disturbo cronico perché fondamentalmente ci troviamo quasi spesso di fronte a un sovraccarico di tossine metaboliche e le tossine metaboliche si dividono in due tipi colloidali e cristalloidali e le colloidali sono insolubili nei liquidi e causano soprattutto iperviscosità emolinfatica e quindi siamo di fronte a cellule morte a residui di reazione post-infettiva nuclei aromatici come l'indolo scatolo alcune amine aromatiche come la putrecina e la cadaverina c'è il dottor Marini che si sa quanti testini carichi di queste amine cataboliti tutte della digestione proteica cataboliti da carboidrati complessi un microbiota alterato porta a questo cataboliti da sovraambientazione lipidica e quindi in questo caso abbiamo la necessità di ricorrere a delle tecniche di drenaggio soprattutto che interessano il fegato l'intestino le ghiandole sudoripare e quindi dobbiamo pensare chi ha accanto per esempio ai bagni ipertermici che consiglio o altro considerate il fegato considerate l'intestino come non pensare a un prodotto come il Bionergen o prodotti come quelli che sono stati presentati in queste due serate per poter fare questo così quando abbiamo a che fare con sostanze cristalloidali che sono invece solubili dei liquidi e causano soprattutto congestionamento degli organi mutori sono le sostanze che poi causano anche i calcoli l'acido urico da sovraalimentazione di proteine animali l'acido piruvico da sovraalimentazione di zuccheri raffinati l'acido ossalico da fermentazione carboidratica intestinale non sottovalutate ci sono molti che poi sviluppano in ambiente acido calcoli di ossalato quindi nel colon soprattutto in caso di disbiosi oppure di sovraalimentazione da cibi contenenti ossalati e considerate che anche qui noi dobbiamo intervenire con un drenaggio che deve prevedere anche l'attivazione diciamo di mutori particolari ma allo stesso tempo è più spesso sempre più spesso noi non ci troviamo solo di fronte a tossine fisiologiche perché ci stiamo trovando in questa società molte tossine che non sono metabolizzabili e non vengono riconosciute dai sistemi fisiologici o sono parzialmente metabolizzabili il risultato è questo il tassamento dei sistemi di tossificazione epatica ed è monitoriale Bartolo assolutamente sì dimmi no ci stai dando un antipasto del nove della tua workshop che farai il nove straordinario hai ancora due o tre minuti perché poi dobbiamo ripassare la no no assolutamente era solo una infarinatura è chiaro che il nove parleremo soprattutto mi stai aspando qualcosa diciamo sono concetti semplici no voglio dire sono concetti perché la malattia è questa cioè nella malattia non si può fare a meno di andare a guardare la cellula poi bisogna sempre fare i conti col connettivo beh immagina Giorgio abbiamo cioè il self food poi il same no per gli amuntori no il bioenergel incredibile poi l'MSM la silicia poi l'EPD il collensivo a Q10 cioè possiamo lavorare veramente l'episulporafano tutti i componenti mineralici perché noi dobbiamo iniziare dalla cellula passare il connettivo e terminare con gli amuntori e questo è fondamentale perché fondamentalmente noi poi dobbiamo fare sempre i conti oltre che col connettivo ebbene abbiamo parlato ampiamente in questi due giorni con le cellule perché quando abbiamo un danno cellulare la malattia diventa cronica e non dobbiamo arrivare al danno cellulare tutte le malattie mitocondriali sono collegate a danni cellulari e sono tutte malattie croniche quelle che stanno pesando di più e in più noi non andiamo mai a guardare il fegato eppure il fegato che è una tappa fondamentale fondamentale nella gestione della salute guardate il fegato guardate quante funzioni svolge dove voi in queste funzioni della fase 1 trasformazioni chimiche che coinvolgono gli enzimi del citocomo 450 quindi ossidazioni che sono riduzioni idrolisi dilatazione sulfosidazione dealogenazione che hanno la funzione di alterare e disattivare le tossine pericolose molecole xenobiotiche aggiungendo loro un gruppo funzionale che ne modifica la struttura chimica questa è fondamentale questa fase perché ormai negli intestini delle persone stanno tutti i metalli sostanze chimiche quanti ne troviamo anche attraverso l'S-Drive poi dopo si lavora anche sul microbiota ma dobbiamo lavorare su queste cose così come la fase 2 che è fatta da la fase di trasformazioni che implica un processo di coniugazione poi vedremo di sulfazione di metilazione di glucoronazione di acidilazione di coniugazione con aminoacidi e con glutatione che ha la funzione invece di rendere solubili le tossine solubili quindi le tossine vengono inviate poi nel circolo che è la funzione del fegato che vedete guardate dalle tossine mie parliamo delle endotossine per esempio batteriche Guido Marini chissà quanti batteri incontra nel microbiota patogeni se approfitti i patogeni situazioni beh basta quello ma anche micotossine arrivano e vedete creano il fegato ha bisogno di cofattori la B2 ecco il multivitaminico il glutatione i flavonoidi i fosfolipidi ecco perché poi l'importanza anche di S-Drive con la formazione poi di ROS che sono sostanze reattive dell'ossigeno molto pericolose che sono metaboliti intermedi biotrasformati insieme a radicali liberi che vanno a creare un danno secondario per cui che fa il fegato guardate attiva questi meccanismi attraverso alcune sostanze ecco perché dobbiamo dare antiossidanti vedete caroteni vitamina C vitamina E selenio il Q10 T-Ori abbiamo parlato i bioflavonoidi l'acidimarina il picnogenolo l'acido lipoico per arrivare alla fase 2 di coniugazione fondamentale perché in questa fase le reazioni di sulfazione di glucuronazione di acetilazione di coniugazione aminoacide di coniugazione glutatione permette praticamente vedete che avviene attraverso il NAC la cisteina la metionina tutti gli aminoacidi di solforano quindi capite com'è importante in presenza di metaboliti non fisiologici e oggi purtroppo abbiamo una società lo sapete meglio di me che ha un sacco di metaboliti non fisiologici attivare questa fase ecco perché poi aumenta la steatose epatica anche nei soggetti magri cioè noi quando in medicina interna 30 anni fa studiavamo la steatoepatite noi sapevamo che in patologia generale la prima fase di danneggiamento era una fase di degenerazione tropica dove si alterano gli equilibri di membrana della cellula epatica va in degenerazione vacuolare la successiva fase quando salta questo meccanismo di accoppiamento fra fase 1 e 2 andiamo in una fase di steatogenesi per attivazione di meccanismi di ossidazione soprattutto dei lipidi delle membrane cellulari degli organoli che caratterizzano questo meraviglioso organo che oggi ancora di più deve essere valorizzato ma che grazie alla nutraceutica che avete affrontato che abbiamo affrontato in queste due serate secondo me abbiamo dato anche una spinta a comprendere come quando si parla di fegato non è solo il fegato di tipo depurativo il fegato coleretico colagogico ma il fegato antiossidante quindi un concetto di fegato moderno dove chiaramente noi avendo a disposizione con la nutraceutica di salpute ma anche con la nutraceutica di epinutrico tutti tutti quegli elementi considerate che abbiamo grandi capacità di poter andare a regolare questi aspetti perché vedete abbiamo necessità che poi le tossine vengano veicolate attraverso le feci e le urine e non vadano a finire nella pelle negli organi nel cervello nel cuore ed altre parti per cui è fondamentale considerate vi lascio vedete questo è un protocollo e sembra quasi che l'avessi preparata stasera questa è una mia slide di 15 anni fa quindi considerate un protocollo guardate a destra quelli bianchi sono quelli più importanti su cui lavorare vedete a livello mitocondriale avete parlato stasera per non parlare poi del self food a livello dei sistemi immunitari avete parlato del seri immuni l'infiammazione cronica abbiamo parlato degli antiossidanti tutte queste cose e poi vedete tutta l'altra parte dallo stesso ossidativo alla glicazione all'alterata comunicazione cellulare al deficit di etosificazione e al deficit di ventilazione io penso che nel momento in cui noi abbiamo compreso questo potendo liberare con tutto ciò che abbiamo a disposizione i nostri emuntori i nostri sistemi di etosificazione poter permettere alla cellula di respirare quando permetteremo alla cellula di respirare potremo vivere più a lungo quindi diciamo partite sempre dalla cellula e il drenaggio cellulare diventa lo starter fondamentale per poter garantire la salute in ogni momento della vita grazie grazie di cuore Bartolo appuntamento per tutti per una tua lezione magistrale martedì nove Guido ci sei? ciao Giorgio ci sono ci sono Guido Bartolo stai con noi che stiamo per proprio comunicare quell'idea di cui stavamo parlando prima di ridare la parola proprio cinque minuti di questa idea importante di cui parlavamo di questo sogno di questo progetto Monica ci sei? sì sono qua dottoressa Monica Greco e ciao Monica e dottor e dottor Guido Marini benvenuta innanzitutto insomma una serata meravigliosa un qualcosa di straordinario adesso la concluderemo con i protocolli del dottor Mauro Miceli e volevo dirvi qual è l'idea che ci è che ci è venuta in mente di lanciare ne volete parlare Guido Monica volentieri parto io sì 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 vai vado allora dopo questa musica che ho sentito fino ad ora di scegliere di Allegrini per me è stata musica per le orecchie e quindi ancora di più questo sogno che abbiamo iniziato con Monica poi abbiamo parlato anche con Bartolo con te e quindi è stata una cosa meravigliosa qual è l'esigenza che sentivamo specialmente io e Monica lo dirà anche lei quella di fare una buona medicina dico buona medicina perché io come ha fatto anche Bartolo ho lavorato nel reparto di medicina interna per 15 anni che poi è diventato un reparto di gastroenterologia quindi sono stato in ospedale a fare le endoscopie le laparoscopie per 15 anni poi ho lavorato sul territorio come medico di medicina generale mi sono sempre interessato anche di agopuntura energetica con il professor Moussa e questa medicina la sto vedendo andare a gambe per aria io ho parlato con molti miei colleghi anche di medicina generale ormai sono subissati da un lavoro burocratico in cui veramente la cura del paziente è distante ma non per colpa loro perché la formazione universitaria a mio avviso indirizza a curare i sintomi tutto l'opposto di quello che abbiamo sentito sino ad ora e che io confermo con la mia esperienza clinica quindi vorrei fare una scuola di buona medicina che comprenda tutti i tipi di medicina tutti perché niente da buttare via però che sia molto equilibrata e che vada a vedere in profondità qual è il problema perché io troppo spesso vedo nella mia pratica specialistica privata che faccio ora che vengono molte persone disperate perché non trovano più un medico che li visiti che li ascolti che li curi ma trovano un medico che in base al loro sintomo fa una diagnosi e dà un farmaco all'opatico per andare a sopprimere quel sintomo e questo spesso comporta una serie di effetti collaterali diceva anche Bartolo prima quelle tossine provocate dai farmaci che sono veramente pesanti io vi posso dire gli esempi in campo gas entrologico dei inibitori di pompa protonica i danni che fanno ma altri tipi di farmaci i fans farmaci come diceva al congresso di Bologna l'amico Gabriele Guidoni nella fibromialgia vengono dati degli farmaci che si usano nei pazienti con patologie psichiatriche privi di efficacia quindi volevamo lanciare una scuola in cui in modo molto pratico perlomeno da parte mia portare la mia esperienza di come approcciarsi ad un paziente vederlo da mille aspetti perché la realtà spesso noi la guardiamo da una parte ci sembra un triangolo la guardiamo dall'altra parte ci sembra un quadrato ma è molto più complessa quindi andare a fare tutte quelle cose che ha anche suggerito Bartolo prima e per esempio anche utilizzando io lo sto utilizzando da un anno e poco più dietro proprio suggerimento a un congresso sia di Monica che di Bartolo l'S Drive l'S Drive a me non dico solo un neofita ma insomma uso da poco tempo ma ha cambiato la vita perché spesso è quel plus che mi dà un indirizzo su come muovermi poi bisogna cercare di muoversi in un certo senso io sono un medico che a volte quando prescrivo certi trattamenti diciamo non allopatici dico sempre a una mamma come dice anche Monica se c'è una tonsillite se c'è una sinusite teniamo pronto anche l'antibiotico l'antinfiammatorio il cortisonico se serve teniamolo pronto in tasca ma prova ad avere un approccio diverso un approccio più sulla cura del paziente e vedo che questo approccio mi dà dei grandi risultati la gente torna ringrazia perché trova una risposta diversa ecco quindi quello che volevo dire io fare una scuola rivolta a medici perché io vedo che anche ai congressi che frequentiamo noi i giovani medici non ce ne sono tanti quindi se andiamo avanti così questo messaggio questa luce che portiamo questo scettro a chi lo diamo perché se ce ne parliamo sempre fra di noi poi noi finiamo e finisce tutto lì ecco quindi lo scopo ecco il goal che volevo portare in fondo io insieme a Monica insieme a Bartolo presumo a Giorgio è quello di fare questa scuola è un sogno però i sogni se a volte ci crediamo fino in fondo diventano realtà e poi possono prendere delle pieghe molto belle a me piace spesso sognare ecco questo questo volevo dire grazie Guido Monica sono velocissimi perché dobbiamo ridare la parola a Mauro se no me le dà sì io ringrazio tantissimo sia te che Guido che Bartolo e tutti quanti voi tutti i docenti di questa scuola non ce la facevo più a sentire argomenti di divisione nella medicina di quello che è la medicina che usa il farmaco e la medicina che va alla radice dei problemi ecco perché c'è questa sete di buona medicina vorrei e vorremmo insieme tornare a fare i medici come una volta ritornare a fare l'esame obiettivo quando non si avevano troppi esami strumentali e avere dalla nostra anche il presidio del test del bulbo del capello sarà un aiuto e una bussola fondamentale ma veramente in questa scuola vorremmo dare tutti gli aspetti pratici che mettiamo in atto nel suo essere ogni singolo giorno in questo meraviglioso team quindi questo è il nostro sogno e ogni sogno si chiama tale perché diviene realtà quando ci credi davvero ecco questo è tutto ma che bello anche quello che avete scritto guarda questo questo proprio dei sintomi delle patologie dei nostri tempi ottimizzando gli aspetti preventivi esatto io penso che come dicevo in apertura la vita è urgente il DNA non è il tuo destino ma dobbiamo fare presto nascono bambini sempre più malati genitori troppo giovani sempre più malati che mettono al mondo bambini non sani purtroppo e questo è una cosa molto sottovalutata e pensate quanti svapi che oggi vendono e sigarette che vendono nonostante si sappia che creano pandemie solo le sigarette pensate l'alcol il cibo sbagliato l'inquinamento dobbiamo fare presto dobbiamo unire le forze e dobbiamo perché comunque questo è un atto medico poi per curare le persone dobbiamo avere più medici possibili che possono insomma integrarsi in questo progetto quindi voglio ringraziarvi di cuore per quello che fate già ora per i vostri pazienti che è qualcosa di straordinario sia Guido Monica Bartolo Mauro insomma tutti voi grazie posso fare un piccolo intervento veloce poi passiamo la parola a Mauro allora io tanti anni fa decisi proprio di costruire un grande centro dove il medico doveva diventare il collante di una serie di professionalità per cui siccome qua siamo in una serata in cui il 90 e passa per cento di persone non sono medici questo non significa che fare questa scuola escluda tutti assolutamente perché vi dico la mia esperienza oggi 15 anni dopo che io ho creato questo centro tutti i miei operatori lavorano molto più di me nel mio territorio quindi vuol dire che io sono stato bravo a diffondere la cultura no però la cultura è partita dal medico quindi formare altri medici significa voler bene a tutte le altre figure sanitarie perché se no altrimenti come dice Guido e come penso lo pensi anche Monica noi andremo a finire che così pochi finirà tutto perché ci sono pochi medici che oggi escono dall'università con la fame di conoscenza e quindi io che ho fatto già questo tipo di percorso a mie spese va bene trovando una rete come la vostra può veramente nascere un mondo nuovo dove se noi veramente creiamo partendo dal medico che comunque come dice Giorgio deve fare la dianice ed usare tutti questi strumenti e tutto quello di cui abbiamo parlato però è fondamentale per poter interfacciarsi con la realtà con anche la classe medica che si oppone perché questo è importante perché questa medicina deve ritornare a diventare la medicina a disposizione di tutti e lo può fare solo se costruiamo una rete in cui i medici ritrovino una loro centralità e non devono sembrare dei talebani o degli stregoni medici e farmacisti anche insomma grazie a tutti a tutti dobbiamo ripassare la parola urgente a Mauro che me le dà e me le dà di Santa Ragione dai e ha ragione grazie Monica grazie Guido grazie Bartolo no a lei grazie 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 di cuore allora Mauro eccoti condividi scusami tanto per questo intermezzo dieci minuti li siamo presi vai protocollo avvia il tuo microfono Val si Mauro ora ti sentiamo un po' disturbato ma ti sentiamo eccoci allora protocollo antiossidante protettivo cellulare andiamo ai protocolli ora eh ora siamo ai protocolli allora aspetta eccoli qua di supplementazione allora l'altra volta l'avevamo già visto però adesso lo riprendo con più cognizione perché ovviamente abbiamo self food vitamina c plus vedete come ho differenziato i prodotti per far vedere quali sono i prodotti colloidali quelli la linea self food da quelli che abbiamo spiegato stasera eccolo questo è un protocollo antiossidante protettivo cellulare self food vitamina c multi vitamins epi chaga sul forafano io metto sempre licopene perché ci sta alla grande qd oishi e epi k2 curcuma quindi ecco questo è il protocollo diciamo protettivo cellulare come farlo certamente anche a cicli cioè uno pari fa non è che tutto insieme debba prendere per forza tutto insieme per due mesi può alternare anche venti giorni quindici giorni però fondamentalmente diciamo questo è il protocollo di base per una protezione cellulare attiva la depurazione della matrice l'abbiamo fatta anche l'altra volta lo ripeto se è il food lo vedete ho da 8 a 12 gocce il silica importantissimo fondamentale per la matrice ma ricordate anche Bartolo ma la vitamina c perché è fondamentale nella formazione proprio delle strutture che fanno parte della matrice cellulari le proteine di matrice e infine il bioenergente che è il depuratore per eccellenza quindi l'abbinamento soprattutto selpo di silica e bioenergente garantisce questa pulizia profonda della matrice cellulare che vi ricordo è di fatto un organo un organo fondamentale anche le lezioni che faccio nei vari master universitari ma anche alla scuola di formazione nostra lo giorgio dico sempre la buona la salutogenesi endotelio intestino matrice exacellulare questi tre organi di fatto la matrice e l'endotelio sono organi di fatto attenzione come la struttura intestinale e poi alla fine a livello subcellulare il mitocondrio eccola quando hai questi quattro cardini in salute non devi temere nulla non batte nulla ecco perché la pulizia è la matrice che è importante metti l'antipigenetilo l'altra volta l'ho spiegato anche il discorso della ventilazione vedete lo ripeto ancora quello che ho fatto rivedere perché l'ho fatto anche l'altra volta il multivitamins la vitamina c plus chiaramente il sama e il self food naturalmente poi varia caso più caso perché ovviamente va valutato anche il caso in cui ci siano iper omocistenemia quanto è il valore quanto valutare anche una possibile oltre supplementazione che può essere non sufficiente però questo è il protocollo metilante epigenetico per rimineralizzare anche l'altra volta si era visto lo ripeto il silica è importante da 20 e 30 luce per 3 volte di sanitario vitamina c plus ma certo perché questa qui avete visto quanto interviene importante le strutture cartilagini la formazione delle cartilagini dei tendini e poi l'abbiamo visto oggi l'epid la k2 e il mineral comb la composizione veramente minerale e vitaminica ottimale ma ricordarsi sempre che l'epid rapa 2 come vi dicevo preferibilmente un po' separata dall'epid per il discorso della competizione periferica a livello della recettoria di assolvento e di azioni l'immunitario oltre a quello che abbiamo visto l'altra volta selpo di vitamina c sei l'immuni fondamentale vedete a 10 a 20 gocce io questo prodotto l'ho usato anche per supportare bambini proprio mi hanno portato delle pazienti per il discorso che soffrivano molto spesso di infezioni di correnti virali con buonissimi risultati infatti in serie in particolare proprio ho dato alla base di tutto questo facendo la pulizia realmente poi della matrice con self food ma anche l'epid per il discorso immunitario la stessa epik2 e sempre il mineral comb per l'azione anche oligoterapica ecco perché questo è importante nel periodo soprattutto che parte da il fine ottobre per arrivare fino a marzo di avere un sostegno immunitario però controbattere però il centro il fulcro del seri immuni che poi ovviamente è supportato da tutti questi quindi pulizia di base di matrice ma seri immuni di camminarci questo caso fanno veramente la parte del gigante il supporto cutaneo il bioenergen di base veramente ho trovato anche una dermatite mia personale proprio che ho avuto io anche ricorrente da un allergizzazione particolare agli acari io ho trovato veramente un grande beneficio col bioenergen il silica che ovviamente immaginate voi quanto è importante a livello che avete visto un'altra volta abbiamo parlato del ruolo che si dice c'ha nella formazione di gusaminoglicano di gag famosi che sono più la base della matrice extracellulare poi l'MSM per un discorso ovviamente che avevamo già visto l'altra volta lo stesso il metilsulfometano nelle strutture cutanee anche a livello di tanti infiammatorio e poi sempre la vitamina C che ritorna e in questo caso anche per un discorso moderno ecco l'unica preparata che noi abbiamo esterno veramente a supporto è il self food oxygen gel che sono avuti veramente di ottimi risultati quindi questa diciamo preparazione a livello topico che ha come base proprio l'ossigeno attivo il self food informazione nostra articolare a cui lo avevamo detto l'altra volta del silica plus e dell'MSM aggiungo con pieno diritto l'epi k2 per un discorso soprattutto guarda che si parla però di dosaggio vedete due addirittura tre capsule mi fermerei anche a due a seconda del giudizio del sanitario perché già con due diamo 1200 milligrammi di curcuma estratto attenzione l'azione antifiammatoria proprio a livello delle edunzioni ostre articolari è stata dimostrata tra i 1200 e i 1700 quindi però è importante capire che sono dogiati già a livello farmacologico quindi un nutraceutico spinto l'epi 2 vabbè questo per forza avessi pensato del ruolo che ha la vitamina D è sempre il mineral comps ovviamente in congiunzione per avere anche tutti quei nutrienti di supporto vi ripeto non è solamente una mineralo o vitaminoterapia diventa anche un oligoterapia importantissima di supporto le patologie neoplastiche allora guardate qui chiaramente allora ci vuole sempre una situazione in cui va valutato caso per caso va valutato che tipi di ovviamente di farmaci antitumorali che la persona sta assumendo quindi un contro che sta parlando qui del supporto alle patologie la prevenzione con tutte quelle cose che abbiamo visto certo la fai perché per esempio la prevenzione la fai benissimo con Cell Food la fai con l'epi k2 la fai certamente tutte queste vanno in prevenzione prevenzione ovviamente i dosaggi sono diversi cioè nel senso basterebbe anche una complessa al giorno di questa una due di questa qui una due di queste ma quando si tratta del supporto allora vedete per esempio il Cell Food dalle 10 anche alle 20 gocce ora abbiamo messo 15 perché è sempre un discorso che va personalizzato però qui bisogna anche tenere conto come detto anche se non ci sono grossi problemi ma quando somministriamo per esempio il sulforafano e somministriamo anche la epi soprattutto la curcuma dovete sempre che chiedere se si fa un supporto antinoplastico e dovete sempre chiedere ovviamente che tipi di farmaci di medicinali stanno assumendo perché è importante che il professionista come tutti noi siamo con diversi ruoli ma tutti integrati mi è piaciuto molto il discorso che Bartolo ha fatto della squadra diciamo medica ma allargata medico farmaceutica biologica che tutto dell'integrale dove giustamente il medico è al centro diciamo perché c'è la diagnosi in mano ma viene supportato da vari professionisti che con competenze nutrizionali che farmacologiche e di altra natura anche di medicina naturopatica è molto importante perché questo permette veramente di avere il vero attore deve essere al centro e che cioè che è il paziente cioè il paziente la persona dovevano fare una medicina personalizzata bisogna essere i fautori di questo e quindi quale patologia micidiale noi stiamo lavorando quando una persona ci dice che affetta purtroppo da un tumore io stesso quando una persona me lo comunica mi fa subito uno sconforto nel senso di per lì vengono cioè capisco subito mi immergo diciamo nella trammacitità della persona ma bisogna ovviamente avere subito la capacità invece di star di vicino sia dal punto di vista nutracetico farmacologico medico ma anche psicologico molto importante questo è sempre il nostro ruolo e quindi ecco perché in questo caso bisogna stare sempre un'analisi farmacologica ben dettagliata bisogna capire esattamente la persona cosa può prendere cosa non prendere e anche soprattutto consigliarla in modo che da avere il tuo stile di vita in tutti i sensi sia fisico biologico e psicologico affinché possa affrontare la terapia in modo migliore spesso anche risultati veramente importanti stanno uscendo dei lavori per esempio ben accreditati addirittura sulla meditazione e lo yoga sull'effetto ovviamente antitumorali di queste pratiche ovviamente diciamo di rilassamento psico-mentale e psico-fisico che hanno veramente eccellenti risultati cioè fatti sul tryouts importanti e vi lo dico perché ogni settimana ho gli aggiornamenti come la mia banca dati e vedo veramente lo yoga e la meditazione in questo caso come pure la preghiera fatta in maniera importante e costante che molto spesso integra tutto questo porta ottimi risultati ecco io credo che ho finito con i protocolli volevo darvi il primo finale come ciliegina finale tutto quello che abbiamo detto vi ripeto tutto ciò che abbiamo parlato in serata poi verrà anche alla fine della scuola sono contento e oggi abbiamo mandato questa iniziativa importante con l'aiuto anche da Antonio Codiello che è sempre veramente un geniale il supporto di logia questa bella diciamo queste due belle giornate finali in cui ognuno con le nostre competenze Bartolo Spattini io Monica parliamo anche un po' del riassunto finale applicativo di quello che ci siamo detti alla fine della scuola cioè abbiamo parlato di tante belle cose teoriche importanti anche pratiche ma alla fine diamo quest'ultima proprio pennellata finale affinché possiate poi utilizzare al meglio le conoscenze teoriche per l'applicazione della pratina divina grazie a tutti veramente siete 100 ma insomma veramente una soddisfazione enorme ho parlato la sera c'è chi prova andare a vedere tanti belli spettacoli siete rimasti tutti qui e per me veramente cioè vi faccio veramente dei complimenti a tutti avete voglio di sapere e non perdete mai questa voglia grazie di cuore grazie di cuore Mauro perché io dico che tu sei una delle persone più preparate nel mondo della nutraceutica grande professionista grande studioso e quindi dobbiamo solo esserti grato e farti complimenti per quello che doni e quello che ci dai ogni sera ogni volta che ti ascoltiamo e la passione naturalmente sì possiamo aggiungere abbiamo creato un prodotto come sapete con Arnica Ingro che si chiama Cell Syncro che è l'associazione di Syncro Level più Cell Food proprio e in questo caso il Cell Food si utilizza in oncologia alle 20 gocce tre volte al giorno in anche a 25 per 3 se c'è metastasi c'è chi lo usa a 20 per 6 in giro per il mondo sempre come supporto Cell Food non cura il tumore le cellule mitocondri ossigena e viene naturalmente associato al Syncro Level 6-7 spray tre volte al giorno Arnica Ingro sa questo prodotto si chiama Cell Syncro che sono Cell Food e Syncro insieme più il protocollo che ci ha fatto vedere Mauro Miceli se volete connettere i vostri microfoni potete farlo perché l'ho aperto a tutti una domanda il licopene può dare problemi di intolleranza se uno è intollerante al pomodoro? Ma guardate non mi risulta perché lì io penso proprio di no perché a questo punto è l'estratto proprio è la sostanza estratta dal pomodoro però certamente è chiaro che nell'estrazione che fa l'epinutrix bisogna vedere se si porta dietro delle proteine che potrebbero dare l'intolleranza in teoria dovrebbe essere ridotta al minimo fenomeno però è chiaro che prima di pensarci essendo un estratto di pomodoro il rischio ci potrebbe essere in teoria è meglio sempre accettare cioè bisogna che ci sia un'importante intolleranza al pomodoro insomma però non è da escludere ecco chiaramente non è da escludere ma venirebbe da pensare come la preparazione che loro fanno molto meticolosa riesco a diciamo un pochino a purificare al massimo l'estratto quanto mi risulta dovrebbe essere ridotta al minimo ok senti per le statine che protocollo possiamo dare per abbassare al posto delle statine per abbassare il colesterolo sul forafano self food è questa la via switch no allora domanda un po' particolare perché per il deporte delle statine c'è tutto c'è tutto il protocollo che prevede anche altre piante anche estratti che in questa sede sarebbero fuori luogo insomma bisognerebbe parlarne in un'altra in un'altra sede magari ti facciamo scrivere è chiaro che ti faccio scrivere sì l'importante però attenzione però l'importante una cosa voglio dire giorgio c'è una cosa fondamentale non è per abbassare il colesterolo perché non me ne frega proprio niente da abbassare me ne frega di proteggerlo il colesterolo cioè per proteggerlo ldl cioè a me se io ho 280 io me ne strafrego Mauro Miceli se ne strafrega lo so consideratemi pazzo però io vedo persone se hanno più di 80 anni con 300 colesterolo e hanno le arterie pulitissime perché non ce l'hanno ossidato è quello il problema obbligato quindi questa io la definisco una delle più grandi truffe farmaceutiche veramente che ora sono quasi diventando quasi come l'amico speciali va a finire io cioè capito ma quello il colesterolo mi sta particolarmente a cuore proprio guardate perché questo veramente adesso ce lo vogliono così abbassare ce lo fanno sparire proprio così voglio vedere dopo come facciamo a fare gli ormoni noi eccoci a base colestanica però non è stata che la domanda perché bisogna preservare che sia non ossidato e allora è sul forafano certo lo stesso self food lo stesso silica giorgio ma la bramotti insieme a ferrero ha fatto una pubblicazione in merito proprio la protezione dell'ossidazione ldl con silica e poi la curcuma la curcuma stessa protegge ldl ldl ossidato il licopene il licopene stesso ma certo ma infatti guarda quando io ho visto il prodotto tuo Giorgio sul forafano ti dissi subito Giorgio ma questo è un prodotto meraviglioso è il licopene sul forafano una cosa fantastica io quando non ce l'ho l'altra volta che eravamo a Bologna cosa ho fatto sono giù a tua moglie e dice dammi subito un sul forafano perché per me è veramente una droga c'è il sul forafano cioè degli abbinamenti più belli che possono esistere quindi sul forafano perché sono proprio anti nulla ha fatto il KB e NRF2 Napoli Roma Firenze 2 oh questo è un creolo proprio famoso dell'antiossidazione dell'antiproduzione della cittadina poi mi dicevano l'asse HPA quello dell'altra volta vabbè ma questi sono domande un po' particolari andiamo per grande cari colleghi andiamo a domande riguardano stasera un po' i protocolli qualcosa di più diciamo ecco era la domanda un pochino per rispondere ci vorrebbe come tipo Bartolo un'inizione a meno di 30 40 minuti insomma cerchiamo di essere cari colleghi un pochino più pratici nel senso di vedere domande finalizzate come quello che ha fatto prima appunto sulle statine anche sul discorso dell'ipopene hanno un senso capito grazie di cuore grazie ancora se voi volete salutare avete tutti i microfoni aperti grazie a tutti i microfoni